Vedo che sta guardando questo bellissimo volantino, io ci sono sempre, voi lo sapete, mi tolgo una curiosità, qui Chieri, 35.000 abitanti, una bella cittadina, di che cosa si vive qui a Chieri? Di che cosa si vive, visto che vedo della bella gente? Adesso qui viviamo proprio, una volta si viveva bene perché c'era tanta gente che lavorava, c'era tanta testatura, tutte queste fabbriche sono tutte chiuse, non c'è più niente, non so io ho un figlio di 18 anni che dovrebbe andare a lavorare, prima mi devo fare un debito per comprarci la macchina perché non so dove devo andare, perché se non c'è la macchina oggigiorno non trovo più niente. Quindi questi figli se non hanno ancora i genitori sono fregati? E i genitori pensionati ancora, che devono mantenere, anche con la minima pensione devono mantenere ancora i figli. Quindi non c'è prospettiva per i giovani qui? Niente prospettiva non ce n'è per nessuno, abbiamo tanta paura, non sappiamo dove si va a finire, vivacchiamo così. Vivacchiamo la giornata. Grazie, buona giornata, buona giornata signora, buongiorno.